Continua la morsa delle forze dell'ordine alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un'operazione congiunta della squadra mobile del commissariato di polizia di Comiso ha portato all'arresto del pregiudicato Acatese Rosario Saraceno, con diversi precedenti alle spalle per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno dell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti 17 grammi di hashish, divisi in tre stecchette ed un pezzo pronto per la vendita. Le tre stecche erano separate nelle varie zone della casa ed erano pronte alla consegna. La perquisizione, effettuata con l'ausilio del gruppo cinofili di Catania, è proseguita in un locale pubblico gestito dall'arrestato. Qui lo stesso aveva provato a tirare lo scarico del bagno per fare sparire parte dell'hashish nascosto, ma l'intervento di un agente ha permesso di recuperare lo stupefacente. Non sempre troviamo soggetti già collegati all'ambiente della criminalità organizzata o specifici del grosso traffico di stupefacenti, ma molto spesso sono questi soggetti che magari hanno qualche piccolo precedente, che però monitorati meglio, soprattutto sviluppandoli dal punto di vista investigativo, assieme al commissario di Comuso vedremo se è un'azione estemporanea della quale non siamo assolutamente convinti, oppure improprio, al fine di lucrare in gente guadagno, perché è un'attività che non ha mai smesso di produrre profitte sia per le grandi organizzazioni criminali ma anche per i singoli, ma si deve appunto infrenare perché poi il danno che fanno lo fanno i nostri giovani. Abbiamo cercato di verificare alcune situazioni, dopodiché abbiamo fatto alcune perquisizioni, come detto, anche a Vittoria, Vittoria non hanno dato gli esiti che ci aspettavamo, su Acate invece due perquisizioni, due centri, quindi diciamo che in quel caso quello che avevamo sviluppato era sicuramente positivo. I controlli continueranno, non vogliamo non porre attenzione anche su Comiso e comunque, come dicevamo anche prima, anche alle zone limitrofe. Durante un'altra perquisizione effettuata nei confronti di un altro Acatese di 22 anni, gli agenti hanno ritrovato una modica quantità di marijuana nascosta nel bagagliaio della sua Fiat Marea. In questo caso, vista l'esigua quantità, il giovane è stato segnalato come assuntore.